Gli investimenti immobiliari hanno da tempo dimostrato di essere una scelta affidabile e redditizia per gli investitori. L'immobiliare infatti offre una serie di vantaggi che lo rendono attraente per chi cerca un modo sicuro per far crescere il proprio patrimonio. Uno di questi è il reddito passivo. Si tratta di un reddito che viene generato senza la necessità di svolgere un lavoro attivo e deriva principalmente da affitti o da altre fonti legate alle proprietà immobiliari. Due esempi sono gli affitti mensili e gli affitti commerciali. Per gli investimenti immobiliari è importante cercare consulenza specializzata. Gli esperti immobiliari possono fornire informazioni sulle tendenze del mercato, sulle migliori posizioni per gli investimenti e sulle migliori pratiche per la gestione delle proprietà. Questa guida esperta può fare la differenza tra un investimento di successo e uno fallimentare. Chiedici una consulenza e contattaci.